quando cazzo vanno questi sono proprio scemi fermate un po' cosa pure col tender attaccato dietro ci stanno 3 metri di onda io sapendo cazzo vanno si è fortunato aspetta è triste da tre no non girava dritto non girava tutto il motore va dritto se gira la barca vai vai poi se gira la barca che stanno proprio fuori eccola eccola quello che è nato ma guarda è girata eccola monavia più questo va a scogli eccolo questo sta a scogli sta a scogli eccola ha preso i scogli ha disalberato ma sai sappiamo se è l'ormeggio prima che diamo fastidio ai recuperi del soccorso il soccorso